Tra le strutture che hanno dovuto far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19 tempestivamente e che continuano a farlo, ci sono senza dubbio quelle che garantiscono l'assistenza di anziani e persone fragili. Tra queste l'ospis il Nespolo di Airuno, che grazie all'associazione Fabio Sassi si occupa di malati terminali. Il neoeletto presidente della Ollus, Daniele Lorenzette, insieme ad infermieri e volontari, ha riorganizzato l'ospis in modo che i malati possano continuare ad avere la vicinanza dei parenti in un momento così delicato. In questa seconda ondata, per poter far accedere i parenti, abbiamo utilizzato ulteriori accorgimenti, quindi noi forniamo tutti i DPI, i dispositivi di protezione, quindi sovracamici, maschere, se servono gli occhiali e tutto quanto, sempre per non far rimanere da soli gli ospiti. Abbiamo dovuto chiudere il servizio dei volontari da marzo a giugno e poi abbiamo fatto riaprire i volontari che erano disponibili per fare il servizio di accoglienza. Il Nespolo può ospitare fino a 12 persone? È stato gestito tutto nel migliore dei modi, fin dall'inizio non ci sono stati casi comunque? No, abbiamo deciso sin dall'inizio di poter avere all'interno soltanto pazienti no Covid, ma non per una forma di egoismo, ma perché la nostra struttura non permette di avere una parte Covid e una parte no Covid, in quanto il percorso è unico, quindi avere una persona Covid vuol dire bloccare completamente tutto l'ospice, quindi la nostra scelta è stata quella. E come tutte le associazioni, la sfida di quest'anno è anche quella di continuare a svolgere la propria missione, nonostante le difficoltà economiche legate al momento. La Fabio Sassi vive perché è convenzionata con la Regione Lombardia, quindi abbiamo una quota per ogni paziente che entra, per ogni giornata di ricovero, però la quota che ci dà la Regione Lombardia copre i due terzi dei costi che abbiamo. Il terzo che manca lo cerchiamo sul territorio. Noi abbiamo avuto la fortuna di essere stati aiutati tantissimo, sia dalle persone che dalle aziende e anche adesso continuano ad aiutarci. Ovvio che in un anno come questo, dove molte donazioni sono andate a finire negli ospedali, giustamente, e per la protezione civile, noi siamo un pochettino in crisi. Non succederà nulla dietro questo, però se arrivano meglio.